Cosa vuoi? E non puoi mangiare. E questo panino è per me. Vuoi andare... Eh, cosa devi fare? Tu non puoi mangiare il panino. Puoi mangiare il panino. E questo? Non è per te. È per me. E questo? È per me. Eh? cosa stai pensando il suono di come bomba vieni, vieni, brava, seduta, seduta, bravissima, vuoi panino? vieni qua, scusami, scusami, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni, aspetta, prendiamo il tuo pane, il pane ghiacciato, brava, guarda, 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 guard Buona? Eh? Buona? Dove vai? Dove vai? Grazie a tutti. Grazie a tutti.